Bar, ristorante, pizzeria Italia Nuova, Somma Lombardo, in piazza Santo Stefano. Sono molto felice perché c'è molto pubblico, si divertono, è una bella serata, devo complimentarmi con i ragazzi che hanno organizzato perché hanno fatto un lavoro encomiabile, duro, di diversi giorni per la scenografia, le luci, eccetera, le prove che hanno fatto, quindi ragazzi molto validi di cui sono molto contento. I giovani di Somma non sono riuscito ad averli, cosa devo dire? Avrei voluto che venissero, no, tanto per dire, il tecnico che segue le luci è un ufficiale dell'Alitalia, ecco, un ragazzo extra, ecco, i ragazzi sono tutti molto educati, preparati intellettualmente, sì, sono molto contento di loro. Mi avete fatto credere, da barbi! Grazie! 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 C'è tutto l'insieme delle cose, sia il moderno, il futuro, sì, sì, no, tutto bello. Io ero già venuta anche a vedere Zorro, beh, tutta un'altra, adesso verrò a vedere cos'è Pinocchio, eh, no, no, molto, beh, questo è molto impegnativo, eh. Molto bello, sono molto bravi, mi è piaciuto, seguirò ancora le loro orme per dare un po' di sostegno allo spettacolo. Molto bello. I love my family to Trombo, eh, buona prima! Diciamo che lo spettacolo è stato molto bello e innovativo soprattutto, e se non sono, e se sono, diciamo, dei dilettanti hanno lavorato veramente molto bene. Eh, diciamo, è una cosa nuova, penso che piacerà al pubblico sia giovane che meno giovane. Grazie. 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 Grazie.